Sono scattati i sigilli questa mattina alla terza vasca del Civeta dopo le indagini coordinate della Procura della Repubblica di Vasto. I militari del Comando Carabinieri per la tutela ambientale e nucleo operativo ecologico di Pescara hanno dato esecuzione su delega del Procuratore della Repubblica Giampiero Di Florio al decreto di sequestro preventivo emesso dal locale tribunale riguardante appunto la terza vasca della discarica per rifiuti non pericolosi della società Cupello Ambiente SRL che è situata all'interno del polo tecnologico di proprietà del Consorzio Intercomunale Civeta. Dalle indagini è emersa la violazione di norme a tutela dell'ambiente e di quanto stabilito nell'autorizzazione integrata ambientale essendo stati accertati conferimenti di rifiuti extra regione per gli anni 2017-2018 con rifiuti provenienti prevalentemente da Puglia, Campania e Lazio per circa 70.000 tonnellate. L'adozione della misura cautelare si è resa necessaria per evitare che quanto scoperto venisse ancora perpetrato. Ovviamente tutto questo certifica che c'è una problematicità forte intorno al tema delle discariche e adesso fermo restando il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura su cui abbiamo piena fiducia e diventa sempre più forte l'esigenza di uscire fuori da questa tipologia di economia e tornare finalmente a quello per cui il Civeta era nato, ossia un elemento di eccellenza nella realizzazione di compost. Visto che al palo anche il digestore anaerobico ci auguriamo che la comunità, i sindaci insieme, visto che parliamo comunque di un consorzo pubblico che nel tempo ha avuto più responsabilità in questa gestione, punti realmente su quella che può essere la soluzione almeno economica, sociale e ambientale del problema. Intanto il Comitato Difesa della Comprensoria del Vastese, il Forum H2O e la Stazione Ornitologica Abruzzese e Onlus hanno espresso la propria soddisfazione per l'operato della Procura di Vasto e del NOE. Per il sequestro operato stamattina è ricordato come in data 5 novembre 2017 era stato depositato un dettagliato esposto alla Procura di Vasto proprio sulla provenienza dei rifiuti smaltiti. Attualmente le indagini sono ancora in corso ed il resto ambiente e salute sono diritti costituzionali protetti che non possono recedere dinanzi ad altri interessi.